Musica Oggi presso la tabaccheria Noli presentiamo una pipa creata appositamente per l'esposizione universale del 2015 che si svolge a Milano. Come caratteristica porta un'artistica Ghiera Argento su cui abbiamo inciso due spighe di grano simbolo del food, cioè del buon mangiare del cibo di quello che in questi giorni a Milano sta avvenendo. Si chiama Milano 2015 e viene prodotto in serie limitata, 120 esemplari in tutti i finissaggi classici di Castello che sono la Sirov, la Collation, la Castello a Castello e la Trademark e la Perla Nera. Musica È una pipa medio classica perché non è né grossa né piccola, ha un bel vaso, può essere usata sia al mattino che al pomeriggio e alla sera. È una pipa praticissima da fumare, molto semplice, adatta anche a un neofita. La pipa Castello è un'antica fabbrica artigiana di pipe di Cantù in Brianza che ha iniziato a produrre dal 1947 pipe a livello artigianale e direi con orgoglio completamente fatte a mano. Musica Musica